Siamo con Valentina Gandini, cantiere Milius, un cantiere nel cuore della pianura padana che costruisce bellissime barche. Valentina, cosa ti chiedono gli armatori, in particolare in questo periodo? Barche grandi, perché è il trend degli ultimi anni, è sempre stato di costruire barche grandi dai 70 piedi in su, ma anche piccoli day sailor veloci sui 50 piedi da mettere vicino alle barche più grandi, alle ammiraglie più grandi della flotta. È un periodo in cui abbiamo tantissime richieste, quindi siamo partiti con nuovi progetti, tra cui appunto anche il 50. So che avete dei progetti anche a motore, come mai questa svolta? Diciamo che è un po' la strada che hanno preso tutti prima di noi, in particolare è stata una fiera a Miami che ci ha portato a decidere di dedicare una sezione del cantiere al motore, perché alcuni agenti ci avevano chiesto di poter avere un prodotto made in Italy che strizzasse l'occhio al design come il nostro, ma che fosse una barca a motore veloce, tipo tender o una navetta. E quindi siamo partiti con il progetto e abbiamo tirato fuori questi due progetti di monoscaffia motore, una navetta da 62 piedi disegnata da Ceccarelli e un tender che può avere motori fuori bordo e entro bordo, disegnato da Simeone. Quando li vedremo? La navetta sarà in acqua nella primavera 2023, mentre il tender sarà il prossimo salone di cani. E nell'ambito della vela, qualcosa ci hai già detto, c'è un progetto particolare che vi stimola? Il progetto principe di questo periodo è sicuramente il 72 disegnato da Sean Carquic, che stiamo costruendo completamente nel nostro cantiere a Podenzano. Sarà una barca velocissima, tutta costruita in preimpregnato, lifting kill di APM, albero alto modulo, quindi un armo importante. E voi guardate anche dimensioni più grandi, a parte gli 80 piedi che sono già nel vostro... Allora, vorremmo rimanere sotto i 100 piedi per i prossimi 5 anni, puoi mai dire mai, però sicuramente abbiamo nel cassetto un progetto di 90 piedi e vedremo quando si concretizzerà. Il 72 promette grandi velocità, grandi prestazioni. Uno degli obiettivi è anche la regata. Le regate continuano a piacervi? Assolutamente, sono nel DNA del nostro cantiere. Il 72 è una barca che nasce con uno spirito race importante, che speriamo di poter portare in tutti i circuiti principali delle regate del Mediterraneo, quindi la Maxi Rolex Cup a Porto Cervo, le Wallis Saint-Tropez, e continuiamo a fare le regate anche con i nostri 80, 65 piedi. È sempre un tema che a noi sta molto a cuore. Si parla molto di firme, voi in qualche modo lavorate con diversi designer e anche molto bravi. Che cosa porta questo al cantiere e alla nautica? Tanto, ed è una cosa su cui abbiamo lavorato tanto, è proprio il link forte col design, con il design, l'interior design. Tanto è vero che stiamo costruendo una linea di mobili in carbonio, che presenteremo la prossima stagione e il cliente è sempre più un cliente, soprattutto nel motore, educato ad avere la bellezza intorno. Quindi il design ci aiuta a presentare dei prodotti che sono sempre più accattivanti.